ehi ragazzi siamo ritornati su minecraft finalmente ho fatto il castello il campo da calcio poi la casa della strega perché mi hanno detto di non e dei miei compagni di non aspettarvi fare tutto di fretta perché domani ci dobbiamo incontrare noi voliamo come sapete qui il castello è sempre con le plessum plate perché senza plessum plate ovviamente io non so fare niente allora la testa con il tridente, spada di diamante, arco, fretta di veleno poi qui è l'accendino signor accendino metti qui e la freccia normale qui ci sono i letti che è Pasquale che sono io domenica, Alessandro e Michele allora il blu e il giallo sapete già di ci sono domenica e Alessandro domani arriveranno e ci saremmo io lo sapete già poi domenica e Alessandro e domenica saremmo in quattro secondo piano andiamo sopra quindi sono additato per la falsità del papà io ancora devo decidere che cosa mettere perché non ne sono sicuro avevo messo quei cosi i brucchini dell'end però appena sono ritornato sopra erano scomparsi ora insieme a voi volevo fare la casa noob volevo fare la casa del noob per aspettarvi sperando che non mi diano ancora così sperando se no ci mettiamo tre ore per favore stai calmo cacchio finalmente posso fare questa casa noob cosa di stai finalmente raga così avete visto il castello ma secondo te voi raga se io metto la porta normale di noob alla casa noob secondo voi visto se un villager uscirà oppure rimarrà dentro scrivetelo nei commenti io non lo so non lo so voi ma secondo me uscirà io non lo so comunque procediamo alla costruzione ovviamente tutto così bella grande ci sapete a se li accelerava sto dicendo bella grande molto grande perché deve essere grande se no piccolina neanche un nube normale oppure capito oppure neanche un messi ci può stare a parte che deve restare nell'acqua per esempio e là in tutto perché sono tutte ok sono solo io perché ho la lava domani abbiamo altri tre giocatori altri due giocatori perché duplex mic lo sapete già chiede vado a me video insieme e allora altri due giocatori alessandro e domenico che su manca chi si chiamano domenico si chiama domat con e poi e poi 1722 e alessandro stefano polica tre se lo se li volete trovare questi due che mentre noi facciamo il video domani andate su mine se ce la vedete poi andate su su mondo se li vedete stefano polica tre e poi e poi domat con due term mi raccomando 1722 e sono subito su minecraft nel mio mondo se volete entrarci facciamo cosa io vi invito ragazzi non so se ce la avete minecraft che a minecraft nei commenti mi scrive io ce la e per ora passiamo al sbavimento finalmente finalmente e poi mi messe tre ore entrate tt eeeh entrate tt finalmente me scusami finalmente raga finalmente facciamo così non fa niente facciamo così non fa niente non me ne frega proprio niente mettiamo questo se lo metto verde ma per favore sto dicendo ok mettiamo la porta sperando che il video che il nube non è aspettiamo il giorno perché mi sono rotto sono ancora notte finalmente è diventato giorno finalmente finalmente la loro e passiamo non ho sbagliato così finalmente così 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 non vi faccio entrare nella casa dello strego perché ora vi faccio vedere perché se la voglio potete vedere siete curiosi ve la faccio vedere allora questa è la casa nube che ora noi stiamo costruendo questo è il castello che vi ho fatto vedere questa è la casa della strega che ora vi faccio vedere proprio da dentro sperando che non mi rompo la strega perché il gatto è andato nel pantalone non lo so signora strego e quindi finalmente e lei l'ha visto volevo stire ma ancora è stata la e qui invece c'è il campo da calzo c'ho una testa per giocare a pallone perché non c'è una palla perché sono pure nube forza mannazza ho perso questo signora tartaruga vuoi andare nel mare per favore bene vai nel mare a nuotare i tuoi altri pesci non ti rimettete di fare pure le uova per favore uuuh per fortuna no vieni di nuovo qua sopra ti do un pugno guardate eh te l'ho detto tartarugina te l'ho detto ma secondo me prima di mettere la cosa mettiamo le cose dentro così so già che è bella la casa la cosa la cosa non proprio tante cose perché i nube come già sapete sono nube e quindi non voglio vedere troppe cose io ho messo il tetto prendi pensavo che era più basso mettiamo le torse poi mettiamo il letto mettiamo questo mettiamo questo mettiamo il coso mettiamo il nome nube ok mettiamo il nome la nube per evitare che se lui non esce fuori faccio così per evitare e ancora dentro tutti fuori vanno ragazzi devo mettere ancora la porta di ferro a tutte le case se no e stiamo fuori porca miseria e stiamo fuori porca miseria finalmente ho trovato il bottone così noi facciamo così mettiamo la porta di ferro a tutte le case qui è tutto così però se la porta di ferro a tutte le case se no escono apriamo e mettiamo e mettiamo sto signor nube come stai un nube da piccolo nube da crani nube 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 la famiglia nube facciamo e e nube 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 e nube non la famiglia e mi 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 è piccolo non lo rimetto allora è andato ammazziamo questo perché mi sono rotto pure questo perché mi sono rotto ragazzi lo siamo io sono usami ad api qua essi signore essi ecco scusami signore essi essi non c'era il nome non c'era mettiamolo in nome nome ragazzi siamo all'occhio finalmente siamo all'occhio facciamo così voglio farvi vedere quando giocavamo il campo da casa però il peccato è che oggi non posso giocare sono soltanto io però già facciamo un pochino col 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 vabbè giuve com demande milan era io con me quando le sandra e domenico mi piace la juve e a noi due ti piacerà il milan e basta ragazzi a noi dove ti piace il milan oggi è la festa di papà avete fatto gli auguri al papà formazioni bravi bravissimi che avete fatto l'agguria papà a scuola avete fatto la poesia del papà l'avete detta bravissimi la nostra è stata proprio bella di questa giornata questo è tutto un pro perché io li odio a me mi piacciono di più i gud che c'è la strega malandrina strega strega malandrina come stai spero che sta bene secondo me gattone abbiamo questa cosa la mettiamo nel tetto a questo punto se il gatto è ancora la mettiamo nel tetto avevo un'idea io la volevo fare insieme a voi avevo buona idea e vediamo se funziona però l'idea lei avevo in mente speriamo se funziona prendiamo questo sperando se funziona così e volevo mettere il giarderone qua bellissimo è troppo bello raga è troppo è troppo è troppo è Pisis passer passo se non è la strega tu non può andartene via come del gatto tavola store libero la stariga è molto verde dovranghè e ci vediamo domani sul prossimo video che saremo tutti e quattro ed esploreremo meglio la nostra mappa e gioteremo il calcio ovviamente perché a noi ci piace molto il calcio volevo vedere se ah sì volevo vedere se c'era la casa dei gurd sopra le nuvole finalmente l'ho detto ma mi sembra che non ci sia speravo che c'era ma invece no brutta questa cosa, molto brutta terriamo sopra la casa delle nuvole sono triste finalmente sono terrore come stai? lo sei che ha rotto? dai dimmi qualcosa rubo non bruso lo trovate una cosa ragazzi? io so se tu ti farai una cosa e gliela dai a qualcuno lui te la dà guarda rubo tieni questo la presa? no no era puntata signor noob tieni questo eh te la dà vai rubo vai a prenderlo eeeh eeeh non è stato tutto non è non è stato tutto troppo tutto troppo tutto Troppo, 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 troppo. Voglio vedere l'osso volare, se c'è o no, perché ci deve essere nel ghiaccio subito. Va da vedere, non fa niente, vediamo se c'è o no. Mi sembra che non c'è, qui c'è un igloo, se possiamo abitare noi domani. No, 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 no. A me andrebbe bene, almeno questa cosa dell'igloo che sto facendo io ora. Ma il quarto non fa niente, perché ovviamente, no, deve essere qui la lente, no, deve essere qui, neve, veramente. Si sperava che c'era un arso volare, mi ha detto no, raga, mi sembra, è toccato. Ovviamente, ai bordi deve essere, non deve essere qui. Ragazzi, per queste volte è tutto. Continuiamo domani a fare l'igloo. Continuiamo domani a fare l'igloo e vi auguro buona giornata. A domani.